100 giocatori appena l'ha detto uno è andato a terra subito non capisco se ci sono nemici ipotizzoli si e distruggiamo subito la statua di Poseidone il potere dell'acqua giustamente siamo da Poseidone va subito, pompa oro quante armi incredibili abbiamo io potenzialmente sono a posto va bene a domani se dovrei esserci non lo so comunque nel dubbio va alla prossima si avrebbe un medikit boh direi di spostarci siamo qua ci spostiamo a distese facciamo già le grandi eliminazioni si dalla parte opposta andando c'è un'altra statua la posizione da distruggere uno scudo 50 che mi do subito però dicevo effettivamente le cure sono le cose che ci servono di meno adesso perché abbiamo potere dell'acqua quindi ci possiamo reanimare lì beh dicevo intanto andiamo da andiamo da direzze del duello questo è il butto via perché non le userò mai mi distraggono solo chissà fino a che distanza prende non lo so però lì si stanno sparando e come previsto non vedo ancora niente perché non so se prende la tipo il pollo il pollo lo vede ancora non lo vedo eccolo là bianco manca un solo colpo fatto bene bene ci sono altri oh cavolo hanno fatto checco rinimiamo rinimiamo ma perché delle volte smette di rinimare ma è pazzo il gioco arrivano nemici forse prende le targhe non lo so almeno penso siano nemici eh no non vedo non capisco se ce n'è uno qua eh sotto sono sicuro che ce n'è qualcuno perché i passi erano troppo forti c'è qualcuno è qua ma dove cavolo è c'è qualcuno nascosto nei sotterrani eccolo là perfetto altri nemici grande checco ne arriveranno sicuramente altri cerchiamo di dare un'occhiata alla zona lì lì in fondo ne vedo uno vediamo se è ancora lì sì ce ne sono un botto ma qual è il bot? l'altro sta scappando indietro la per un pollo grandi grandi perfetto tanto qui ce ne saranno sicuramente altri ritorniamo al punto un po' più centrale eccolo infatti già che sparano lì in fondo non ne vedo più eccolo là grazie per lo studio grande boh direi di andare in zona ma ancora 40 giocatori rimanenti mi aspettavo mi mancassero di me mi mancassero di me nemici ok uno ha atterrato vabbè non c'è nessuno qua quindi spostiamoci direi di andare verso l'uocanicello che ne ho appena recuperato la medaglia del di cerebro di cerbero direi di stare attenti all'isola io sono un po' stacco eh non tengo più i riflessi mi sa che mi sa che sono già sull'isola mi sa che sono già sull'isola usiamo questo aspettiamo Vinjet si mi sa che stanno combattendo sull'isola vieni Vinjet veloce 3 2 1 andiamo isola e dai spara fatto ottimo ne mancano ancora due che dobbiamo capire dove sono non li vedo posso prendere qua questo lo prendo e basta medaglia ho preso no 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 questa tenetevola questa medaglia non posso non posso portarla tenetevola pensavo fosse quella pensavo fosse un'altra medaglia ma assolutamente quella non posso e poi perdo per tutto quella roba quindi ora prendiamo il trampolino andiamocene via e rientrare qui bene saliamo su dov'è? c'è un altro ecco qua combattono lì perfetto perfetto ottimo grandi mancano gli ultimi che devono essere da qua dietro no qui ottimo l'ultimo eccolo la ecco qua boom signori vittoria 21 eliminazioni mi sembra o 20 o 21 ultima partita di oggi complimenti a tutti ne ho fatto davvero delle ultime partite per caso che qualcuno si sia piantato bellissima partita 21 eliminazione bella partita questa sicuramente caricata sul canale di che so quando mi mi ti 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 Grazie per la visione!